Ragazzi, io sono Emanuele Vitale, come dice Giuseppe Simpatia, non c'è qualcosa nel video, però lì c'è la GTA, abbiamo 4 stelle, la fabbrica del sommergibile, è una cosa pazzesca, ma va bene raga, cerchiamo di avvicinarci ai pezzi con quello che si riescono, è giusto per vedere. Vi volevo solo dire raga, che io con il video di ieri, mi sembra, ho detto che avevo supportato Modifica Club e che mi era uscito Valbuenaif nei pacchetti, sì è vero, mi è uscito Valbuenaif, ma cosa è successo 5 minuti fa? L'ho scartato, perché l'ho scartato? Perché mi dava 10.000 crediti, voi dite vabbè 10.000 crediti è una mh, però, però. Fai guardare il somme, fai guardare il somme. Ho comprato Biabiani Hero, quindi stiamo parlando meglio, credo, quando guardate, mia amichetta trova il summergibilino, guardate, se non ci credete vi farò vedere il motore. Vedi dentro, vai a vedere dentro. Giusto come prova, vi farò vedere. Ragazzi, guardate, 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 vedete l'erica, vedete qui, ora vi faccio vedere anche dentro gli interni. Vabbè, io per questo video vi volevo solo dire questo, ora il mio amico vi farà vedere questo e concluderò il video. Giusto un video di 5 minuti, capito? Nemmeno, è di 2 minuti. 5 minuti nel senso poco tempo. Salta a questo, salta a questo, se ci riesci. Vai. Ecco, vai, entra dentro questa cabina. Non ci puoi entrare. Aspetta, aspetta, provo a saltare da qua, provo a saltare da qua, a salire sopra. Mi sa che darai una capucciata. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Raga, voglio far vedere giusto un po' con gli interni, cioè sopra, dai. Dai, un po' sopra. Fai andare super in corsa e salta. Dai, chiara, vabbè, ve la farò vedere nel prossimo. No, aspetta, salire qua e fai un salto, poi. Guardate, raga. Manco mi mira. Aspetta, forse mio amico ce l'ha fatto, sali, salta, sussumergibile. No, qua, salta qui sopra. Salta. Sei buggato? No, sembra, sei abbagato. Vai, salta ancora, no. Vabbè, raga, non ci riesce. Spero che il video vi sia piaciuto qui dai Crazy Gamers. È tutto. E ci vediamo al prossimo video, bella. Raga. Dai, come.